Ben trovati con una nuova edizione del nostro TG Marche, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. Basta stragi sul lavoro, all'alba si è svolto un presidio nell'area portuale di Ancona per sensibilizzare la sicurezza sul lavoro. Un tema questo che tocca da vicino molti settori nelle Marche, dalle costruzioni fino alla meccanica. Anche l'assessore al lavoro Stefano Aguzzi è tornato sulla questione, ha detto numeri in calo, ma ogni volta che c'è un incidente è una sconfitta per tutti. Teodora Stefanelli Ogni volta che c'è un incidente sul lavoro è comunque una gravità assoluta, perché mettere a repentaglio la propria vita, la propria salute, per poter, diciamo così, avere dignità nella vita, che la dignità nella vita avviene attraverso il lavoro, io credo che sia la cosa peggiore che una persona possa avvenire. Ogni anno nelle Marche avvengono dai due ai quattro infortuni mortali al mese e con più di 45 infortuni al giorno, molti dei quali invalidanti. Gli infortuni mortali denunciati nel 2023 nelle Marche sono stati 28 dati INAIL che indicano le Marche come luogo non sicuro per lavorare. Il tema degli incidenti sul posto di lavoro è sempre più al centro del dibattito, tanto che nell'area portuale di Ancona, davanti a due dei principali cantieri della zona, all'alba si è svolto un presidio di volantinaggio per sensibilizzare alle stragi sul lavoro. I dati relativi agli infortuni denunciati nel 2023 pubblicati dall'INAIL evidenziano per la nostra regione una riduzione infortunistica del meno 10% rispetto all'anno precedente, ma minore rispetto al meno 16% del dato nazionale. La conferma che nulla cambia nella regione Marche in tema di infortuni e che permane un trend fortemente negativo. è data, analizzando con attenzione il dato statistico, dall'aumento degli infortuni nel 2023 rispetto all'anno precedente in alcuni settori come le costruzioni, l'alimentare, il tessile, il legno, la chimica e la meccanica. Di questo trend ha parlato anche l'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi. Abbiamo alcuni dati che dicono che sono in calo gli incidenti sul lavoro. Questo non vuol dire che non ci sia una problematicità, perché comunque sia, come dicevo prima, ma anche quando ne avvenisse solo uno sarebbe comunque grave. Noi abbiamo fatto uno sforzo grosso in questi ultimi anni di riattivare il Comitato sulla sicurezza, che non era più attivo dal 2019, mi pare, lo abbiamo riattivato un paio di anni fa. Sta lavorando, sta operando di concerto con il settore della sanità, che poi mette in campo gli ispettori anche per fare le visite sui territori e quant'altro. Io quello che sento spesso quando ci sono queste riunioni è che gli ispettori dovrebbero essere di più, nel senso sono pochi, o perlomeno sarebbe meglio se fossero di più. Stanno facendo ovviamente il loro lavoro, stanno controllando le aziende, stanno portando avanti proficuamente tutte le attività. Certo che se invece di essere il numero che sono fossero di più, potrebbero fare un lavoro ancora più attento e presente sul territorio.